Sì, questo è il primo gioco del 2023 di Inter Eh, qua si è debotto Ma dove la fregna? No, 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 finisce malissimo No, finisce col cazzo in mano io Ma che è? Sembra, tipo, che mo' devo fare un flashback Sembra che mo' devo vedere tipo un flashback Questa è tipo la fine del gioco Puttana, madonna Eeeh, Ike sa pure L'usina, l'u-bastardo, c'ha l'usina Neee, questo bastard Che struntz do Sì, infatti, è la fine del gioco E ma devo farmi tutto il pre-cassino Mi devo far tutto il pre-cassino Inghage Ma do la pussy, me la scopo Madonna No, 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 io non ce la faccio Noi divento scemo Io divento scemo Ah Ma cos'è? Ma come? E' la pussy da bot Finisco il gioco E' la madonna E che è? E se posso diventare la tua tomba Configgere il minco All'air perde Grazie Non l'ho proprio idea Quasi giocatore Ok Vabbè No, mi posso mu- Se mi posso muovere io Non devo muovere il pre- Se mi posso muovere io Che bello Sì A me a turni Sì Io ho sempre odiato Il classico Fire Emblem Io sono da Oh Io sono da Wario Stuta Vig Però Sì Vabbè Non mi attacchi Attacchiamolo Attacca Madora che sfida Dove trovi di me Ecco come adesso Pure così Pure così Gli annelli mi appartengono Minchia Sì Vabbè Ma mi scopa Non ce la faccio Ma mi scopa Sì Mi scopa Raga Mi scopa Non ce la faccio io Engage Unione Ma si vede che è scriptata E si sa che è scriptata Attacchi unione Questo gli devo fare? Grafica suprema Io mi devo abituare Tantissimo Non lo sanno Ti fanno già fare La battaglia finale Ho vinto Sì Sono forti In che senso L'ultima data festeggiare Ciao Vukis Ti racconti Debolezza incarnata, non mi sconfiggerai mai Che vuole questo? Nivelo completato, ho vinto! Rispetto! Ho vinto! Che l'ho vinto! Rispetta a me! Mamma mia Il mondo è salvo! Grazie, sei pronto! Che cosa ci aspetta? Sì, non ti bussa, Sira Beh, forza la Lazio che ha vinto con lo... Eh, Nicco, ma che è oggi? Da quando ti figli Lazio? Ma il nostro carappello è finito il gioco Non ho capito, finito il gioco così Cosa? Ah, questo è il prologo Non si sa mai che finisca il gioco Comunque è gioco, carissimo Carissimi tutti A voi interessa è in gay, George? Oh? Che femmina Eh? Wow, tell me che tu hai visto questo Ciao, e tu sei? Tu sei inutile! Eh? Tu sei davvero inutile, sì? Sì Tu sei il divino dragone Il divino dragone divinale Eh? No way Che cosa? No way Ma cosa? Il divino dragone è finalmente fuori! Tampi di fumati Ma aspettate Che cazzo? È un... Come... È così un drago Questo è un drago Ma quando? Che è sta roba? Mi sono svegliato Sono un drago Sono diventato un drago io Ciao Ma che cosa significa? Come va? Io sto bene Ovviamente posso giocare a sto gioco Ma... Ma che simpatizzare di me Ma che sei? Effettivamente Ciao carissimo Ma... Ma chi è? Ma non sto capendo Ma non sto capendo Siamo i trentatreesimi Valletti del drago Ma i trentatreesimi Ma che cazzo Ma... Ma perché sono un drago? Capisci Il ferro umano Quale è un drago divino Ok ragazzi Io sono un drago divino C'è nel mondo di Fire Emblem Io sono un drago divino Cioè io sono un drago divino E' grave Oh slowdown E' questo monarco che hai parlato E' mia madre? E' un drago divino? E' un drago divino? E' un drago divino? Oh dear E' la vostra memoria un po' affuscata E' la vostra memoria un po' affuscata Ma... E' così Lo sai tutto Però è una lingua intera Tutte le inglesi Conosciute in questo mondo Lo sai Cioè Che cazzata Si ricorda tutta la lingua inglese Non si è imparato lo spagnolo Non ha fatto niente niente Tutto l'inglese Sa Quindi già era la prima puttanata Il drago divino? Oh, mi sento che posso quasi ricordare Ah, ah Qua ricorda Non preoccupare te stesso Sto cercando di portarlo tutto in una volta Voi te ricordaranno in tempo E' una creatura divina Madoo E basta simpatizzarmi E' una gesta nobile Coraggiose di grande bontà Sono state raccontate Per 32 generazioni alla fine Ma che cazzo La regina Lumera Sarà felicissima La regina Lumera Lo spi Land e frame Il castello di Litos Il castello di Mammoth scopata Mi Poi mi vede la regina Poi mi vede mia madre Tecnicamente Che c'è sta roba E' un'immagine Non è la cazzina Eh Ah Sommia La forza Un'isola fluttuante Se vabbè Quasi è andata Nella l'avanti Quasi è andata Dopo 5000 Dopo Cristo L'isola fluttuante L'isola fluttuante Su cui si costruisce sopra C'è C'è L'isola fluttuante E io ci vivo sopra Ma dove siamo arrivati 5 miliardi dopo Cristo Beh stong Oh Altimente C'hai ragione Proprio stonghissimo Eh oh E' vero Comunque Ho Parecchie Novità Da proporvi Anzi Da andare a dirvi Perché Domenica Vi esce Persona 3 Portable Su Youtube Ma questi Siamo proprio Simpatizzanti Da merda Ma io non sono Nessuno Vande Siamo tutti fumati Ma non sto capendo Che simpatizzanti E' simpatizzante Che sei Madò Che Leccaculo In merda Ah ok Che castello Da merda E' il solito Castello Di merda E' il solito Castello Di merda E' un castello Di merda Come è solito C'è proprio Un castello Di merda Il solito Castello Di merda Grazie La di grazie Eh Mica il dito tuo E' morto Mi state E' morto Cosa Che cazzo Che cazzo Eh Ma che cazzo Ma che cazzo E' morto Che cazzo E' morto Vieni 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 Sono pazzi Ma perché sei scemo Oh no Ma questo è scema Oh no è abuso sono scemi la di ma che cazzo di niveti sono scemi proprio ci sono scemi buono ma va a cacare si vabbè ritiriamoci le figlie meglio che che ne so vabbè fate pisello attacca ho preso tutta la vita di questo mondo che due palle porco giuda madonna che dolore ma è bello mi ha fatto un ps non mi ha fatto niente passi nei mici no che se fess c'è gente che come lo gioco a dei 1 è voglia quando siete scemi quando sei fè bravo fè bello bello la vittoria ho schifato un attacco aia no ma come vabbè vecchia ossa ne ho qui sei fattato un'attacco ma che cacca ma sei serio se a prendermi per il culo però se va bene a fan colpo devo già cura ma tu sei scena e se i gang attacca è buono è buono è buono miglia che dolore io ho fatto il dolore si vabbè voi siete scemi sì però siete scemi siete scemi ma vi dice ritiratevi e poi restate lì come i pesci lessi siete dei fessi che so scemi dopo un po so scemi dei coglioni ma so scemi no vabbè sono sce ma cosa non rischia no vabbè ti so scemi so scemi proprio so proprio scemi so scemi proprio a te lo dico oh è lui oddio buonasera gammo come stai come ho iniziato in gay oh è sexy no che la mia stanza può essere tua io so quella voce se mai avessi passiamo di nuovo spero che mi ricordi sì è lui 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 ma tutto bene sto benissimo oh questo è figa no ho messo la testa problema dell'inizio oh vabbè mi bagno fortissimo il mio pisnello marth mica si è loco uno streaming non è il gioco questo è uno streaming ma che schifo tutto pixelato è buono è buono è buono sono diventato più forte vabbè guarda lì che sostiene proprio eh oh cazzo oh potreste fare i due attacchi invece di uno solo eh ma qui ha impressioni io non dirò mai che il gameplay mi piace eh io sono molto onesto io sono molto onesto non dirò mai che il gameplay mi piace sei sexissima oi ciao Alessio come stai carissimo non dirò mai che il gameplay di un Fire Emblem classico mi piace sarà abbastanza raro che io dirò questa roba che bella lì perchè sei tango là scappa andatemene coglioni proprio come mi scatola la sub az ramo no sub e non posso rinnovare az eh certo tu ho alleato fino alla fine fino alla fine madonna fino alla fine peccato problema a Marte e qua mi ricorda qualcosa mi ricorda qualcosa mi ricorda qualcosa la ricorda qualcosa fino alla fine peccato in quei sensi non posso fare niente mi dispiaceremo due ps mi ha fatto madonna che vergogna no 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 potrei pensarci io azz vuole pensarci il davu chi si do ma c'è un ps son morto ma non c'è un ps ma non è quella merda attacca attacca madonna che dolore adò tu ti mi sta piacendo Fire Emblem te distruggo con un ps ma che piatto lì non è che mi faccio impazzire però non sembra male in generale mi sta piacendo più di quanto mi aspettassi Emblema di Fuoco e vabbè ti sei dimenticato l'Engage però ma devo salvare ora gioca a Smash adesso tu sei interessato a sto gioco cosa è gratis Epistory Tapping ma che me ne frega Divino Xander grazie per salvare sì sì e siete sceme siete due fessi siete due fessi siete due fessi forse per me io vi avrei già licenziati ma come divino divino ma come no io non ce le credo ma Dio porco evidentemente no 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 vattene scappiamo naga scappiamo scappiamo che che cussi che sto lo drago ma addon che immagine è bella e c'è pure un drag che cristo è questo fai voglio la storia ma no è proprio proprio fregna è fregna è fregna la tizia è fregna mh c'hai ha che sì che è che sì no sì sono svegli dimmi che femmina che femmina che femmina è vero è vero è io grazie per salvare ciò quale è un amato è un drago no no ho schippato dialoghi ti avete atteso questo momento mh spero che non sei scusato l'immagine ma che sono tutti i tagli in sto gioco beh è buono c'è cosa c'ha mille e passa anni però c'è cosa c'ha mille e passa anni ne hai dimostro 20 al massimo ma non ci posso fare niente ma questo c'ha mille anni più di mille anni mille e trenta mille e venti non lo so mille anni sono tante e puttana madonna già se uno vive un decimo di mille anni è considerato un vecchio decrepito non si immagina mille anni a dormire lui su una tempia è ferita ma addirittura mia dolce bambina mia dolce bambina mia dolce bambina è una domina per mille anni e ti vedi la razza in serie b madonna la roma che ha 100 champions league madonna 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 non si ama me madonna ma che schifo ha 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 la razza con il giocatore ida che sta per retrocedere madonna torno indietro esplorazione che esplorazione ooooooo niiiiiii no none no 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 nooo No, non ce ne credo No No, non ce ne credo Non è vero Non è vero No, 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 non è impossibile Qua siamo capiti Già finiti Open world, si fa per D Open world Open world si fa per D perché non è open world Secondo me Secondo me non lo è E va bene E va bene E ok La sagge Lucia E libero Solm Interessante Ora è in rovina Ma sono io O non ma Ma quello che abbiamo scoperto Ma quello di prima No Fire Emblem Engage Quella parte Sembra così Sembra Poi non ti so dire Io gioco Molo sto giocando Sono già capito O due O due Non so quali capito Ci sta In realtà Qui saremo sicuro Dimmi Hai capito Che io adoro Il gioco è open world Quindi Sonic È come un open zone Per esempio Non è come pokémon Sarà open world Ma come In che senso Non è come pokémon Eh Sono a casa Sì a casa Mi viene da piangere Ma che c***o Ma ti ripidi La mia bambina Della mia bambina Ma ci riprendiamo Vado Chissà chi Mille anni Cazzo Bambina Sono cadaveri C'è cadaveri Se in parole povere Ne abbiamo fondato Delle persone già morte Sono scattività Non è un open world Come Come no Come no Sì che lo è appunto Quei c***o che ti riprendi Prende dove vai Puoi fare quello Che vuoi Duggie divini Tutto Duggie divini Questo gioco Si va Duggie divini Questo gioco Se non sei un Duggie divino Non vale niente Sonic Non è open world Lati Mi dispiace Il termine corretto È open zone La death sega Proprio Open zone Che è una roba Leggermente diversa Ma Boh Non si è capito Cosa è l'open zone Scusate ma questo Non lo so Questo non lo so Chi è che sei svegliato Chi Open zone Open zone Sì che spero È la struttura Di open zone C'è una sola zona Giocabile C'è Una sola zona Giocabile C'è solo Una zona Giocabile Da quel che ho letto Dimmi In un emblem ring As Marth Resides In the ring Of the hero king Guarda sono un vero Eroico Guarda la montagna Che se vuoi passare The end of the lady Proprio ti è buggarti In fact Ma che preferisco Open world C'è Sonic Io ho giocato Un attimo La demo È tipo Un'unica Grande zona E livelli Sono lineari Ma non voglio Di cazzate Perché un attimo Mi ha fatto schifare La grafica Ho chiuso Dimmi Dimmi Quello che sono I giochi in world Sono pochi GTA Watch Dogs Breath of the Wild Di quali che ho odio Ti sto dicendo Addirittura Carlate violetto Eeeh, no, per cui io non credo proprio, boh, non credo ci sia altro, boh, no, non credo ci sia altro, questo è un po' di open world, beh, 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 tutta una iva, Gesù Santo, è gigantesco, l'ho pagato 20 euro, guardatevi se vuoi, non credo ci sia un po' di open world, vabbè, quella è una merda, pure il tower of fantasy è open world, che cosa significa, Maganda di cedere, quindi potrei protettare gli altri, io con qui, ora, ma per cui non potassi poi trovare questa combina di gratis? No, 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 no i vedrai dalla bitch di guerra, sono pronti addirittura non fanno per open world sì ma e cosa te ne fai stene fai e cosa te ne fai e che te ne fai e quale ho fatto soggetti a due giochi per lei in giù dove vuoi è problema è i giochi così storia con belle storie addirittura sei mia figlia la protettrice di tutti ma bu me dai proprio ma sti due fessi sti due fessi ma mi fanno perdere poi due fessi dietro è un due contro tre a posto due contro tre stiamo questo è la vita nostra ah non ho l'arco no che bastardo no va bene si vabbè ma che palle tutorial che due palli tutorial attacca allora se ne ho per world però lo quitter quindi non capisco perché quella caccata immonda e c'è l'open world c'è è tipo per proseguire nella storia è un contone da merda grazie c'è una gta che giri la mappa perché ti ingozza tu che se non giri la mappa per farla storia la missione ovviamente è tua probabilmente è tua va bene poi capito che tipo di problema mi piace alla fine quello che cazzeggia e basta lol ma gesù santo lo entrambato lol sono piuttosto utile sono utile che cosa? che è successo? che è successo? attacca viffing hill lanciamoci sugli avversari utile non posso attacca una persona perché no non c'è grida no non c'è grida no non c'è grida appena mi pego il culo questo gioco eh mo e basta ma io li fai urli intelligenti bello no potevi dare un altro colpette sta zocl sta puto in colpisnello no no non devo fare niente cosi uff for the divine dragon the divine dragon come cazzo mi piace i 3 p e vedi madonna mia la violenza perdonatemi se oh so affrontarvi il cavaliere della mia bambina della mia bambina ma basta attaccami con tutte le tue ma poi lo sussi lol lol non fa un grazie di danno non 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 attaccami mi sento male concentrati clon perché lei il bersaglio ma io e va bene tu sei scemo però da fare resta con ps con un ps resta oh figlia mia quel tipo di gioco mi piace però non so la categoria tecnicamente è morta ha un gameplay molto mmm cioè non 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 lo so cioè se ti piace pokemon ti piace pure persona solo che hanno qualche minima differenza ma cosa ma cosa ah perché poi li guardo mo eh eh si bastarda no che cosa è questa è un che è che è che è la mia madre che c'è ma chi è questo? chi è questo ragazzi? ma chi è? non lo conosco Sigurd Sigurd Fire Emblem Fire Emblem Heroes Fire Emblem Fire Emblem il primo Fire Emblem è effettivo contro i cavalli come questi sono qui qui hai proprio creato un nome e un cognome bellissimo hai creato un nome e un cognome che è quella roba ma degli emmeni ah ho capito nooo sono a favore un grosso perché pokémon non sono un perono per fare come ti fa per due motivi per arrivare da una zona all'altra se potresti chinare buggandosi poi ci sono usati a dire che te fanno tutta una sap e ti rovigliate due non sto capendo beh se tu sei contro pokémon non ci possiamo fare niente buono pio se sei proprio pokémon hater che sei una femmina guarda quanto è nata si se ti attendi va alle seconde pokémon cioè non lo so ma non fatti niente non me sto giocando unite oh non mi rissi ma che cazzo li danno ma è morto vande no vande arrivivo buono madò si vabbè la tua madre ci tocco no ma che figlio di troia che inglese la bambina oh boom oh calcione e risposta e alias puoi fare attacco soltanto cosa ti devo dire oggi tosico di mai non dico che un gioco sia vero solo perché della mia sera preferita ma in che senso per di te sei useless quindi fai del danno non ci credo non ci voglio credere non ci voglio credere quanto sei scemo io ancora stando attendi te vate inda case c'è paurissima perché devi fare la x che è miss ah no è miss oh boom crepo il gioco fa schifo fa schifo anche se di poco non c'erano scavita almeno un decine non lo proteggo ma non fa schifo qual è il problema ma ciao vudama questo è sicuramente più di una domanda i tuoi inimili non prenderanno e nemmeno io e questo è per cui devi diventaremi che un piacere è vero che ti vedrai nella battaglia dopo tutti questi anni ma perché diceva schifo dovevi tal bello no 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 è morta io stavo beh bestia Quella è felissima è morta ti abbandono il oh madonna ma che dolor che bello ma come lol lol che voleva fatto da cavallo è volato via no wait boom 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 ma io ho fatto un grazie del danno jesus bastardo no 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 vengono tu moite distruggi distruggi perché la solità un'altra cosa è l'oggettività alla fine con i good siamo fortissimi questo è un più forte questo è più forte di quel che sembra su un festo clan è fortissimo meglio di quanto sperassi vittoria lo da clan bacio papà comunque se vuoi sapere alcuni dei motivi per cui fa scrivere così da inutile fortissimo lei comunque tu che ne pensi di pokemon ha ragione alessio poi esagerare ma on grazie 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 ha fatto il tuo clan visto che hai aiutato valut però vabbè è proprio un pezzo di da sempre non ci posso fare nulla non credo di aver attaccato non c'è che non volevo soltamente innamorato della saga e va bene o mi hanno regalato un gioco si chiama venia Ubisoft creator program mamma mia il 26 di giugno di gennaio quindi giovedì sono di quelli che si esistono qua su tutta la serie io ho anime 0 non ne voglio sapere niente io di pokemon se in più anche tedesca ti fece una promessa ma che davvero è il 4 omaggio è il 4 omaggio il mio compleanno zocchio la benvenuto da tanto tempo per me è molto importante poterlo consegnare tutti i film con un giorno giocato a pokemon cazzo mi piace la messera preferita allora ma io non mi ricordo quella promessa non mi sento male accettando la cosa come se ero prendendo un presento per qualcuno cazzo mi ricordo questo gift di nuovo una volta che ho ricordato tutto non mi ricordo cosa ti diceva mi faceva in battaglia riposare alcune ricollezioni non mi faceva non mi scusate non mi scusate non importa cosa puoi ricordare adesso ok ma perché mi ha mille anni ma c'ha mille anni stava femmina è legale a mille anni me la posso fare a mille e diciotto anni juve 15 punti come un juve 15 punti come ma ufficiale la di mica ufficiale ma ufficiale la di ma che davvero c'è ufficiale ma che davvero si beh rega ma la di si bagna ma lo vedo bagnato la di no si ufficiale minchia così poco e ci sono un gioco che fa schifo lo difendere si ma Alessio io dico pur che per suon 4 gold mi fa schifo io lo dico per suon 4 mi fa schifo io lo dico per suon 4 mi fa cacare eh la di si bagna ole la di bagnato madonna ma la di si bagna ole lo vedo proprio col pisciano in mano la di ole bagnato minchia è morta il viso è morto un gatto nix gattown amore oh che bello amore open è procidi in che cosa si procidi ti abbandonare là di già possiamo capito comunque vado ma di già no vabbè un attimo che salvo non si sa mai poi si procidi di gatto guarda dm e la madonna fammi vedere che succede qua madonna ma non ma non quindi la ragazza in c Champions, nooo, che l'ha di c'ho scuola, è pure io c'ho scuola, oh mi guarda come vince c'ho la scuola, lo dico pure io, la liga, Mallorca in vantaggio, non l'ha segnato Muric, come? L'ha segnato Rodríguez, Chaya Rodríguez, come non l'ha segnato Muric, no, è grave, che giornata, però Mallorca la vince. Oh, se solo potessi ricordare quei giorni, Muric, mi sembra di essere così fortunata di essere il suo figlio. Perché sei qui solo? Che faccio, lo prendo, aspetta, eh? Che è questa storia? È lì cattiva! Che cosa era? E' stato io? Sei bene? Si sembrava che hai un sogno malo. Ma... Ma... Ma, sì, sono bene. E tu sei qui la volta? E tu sei qui? E tu sei bene? E tu avevi portato il mio regno quando hai scopo. Oh... Mi sono scoperto. Mi ho scoperto di uscire. È tutto bene. Prendete. E se qualcosa succede, potrei poter aiutare. Inoltre, dopo un millennio insieme, mi sentiria non comforzata se fossi separati ora. Marth... Cosa ero? Ehm... 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 Madonna... Maaadonna... Ehm... Ehm... Maaadonna... Che faccio? Lo prendo cosa? Questo? Scusate. Non voglio essere impaciente. Ehm... Ehm... Che c'è? Ehm... Che c'è? Non ho sicuro. Un'eraidio? Dobbiamo andare a vedere. Sono preoccupato di Lumera e gli altri. Decidete. No, se devo andare io! Ladi me lo vedo col cazzo in mano. Però mi sa che è automatico. Crediamo diretti. Chiiiiiii! Vandr! Clan! Oh... Divino... Divino... Grazie a Dio che sei sicuro. Che sta succedendo? Domi... Un'eraidio si è fuori proprio tra le ponte di cattolone come il paper! Sì, finalmente... Sì, sono qui! Sono qui! Che più peggio... Ci sono ieri... 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 E si è piu... Chloe... Poi un'altra... 하면서... Bello... Oh... Ma tutti.. Quello... Quanto ha costruito questo... Bastardi... Ggg... Ich... Abba... Machin... aten... piccola 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 la festa ma inutile e vabbè minghia minghia tap off mi ha troppo isolati su life is still person da portavolo ci su santo ma don bs sta questo atto quella porta ma chi sono questi le visioni possono sì te lo faccio sai ci ma chi sono ma gli altri davvero a posto lol lol madonna sbagliato cattiviamo chi comanda il dago divino vabbè madonna e ora cosa gli devo fare si sceglie ti pigli buono buono davanti bello colpa nemico sexy come pochi di attaccare questo allo nero e diva in dragon breccia o basta di vende basta 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 due attenbello avuto sviluppo guardate non mi piace un drago di vini sono bucce ron bucce a buono e di rinforzo un parola proprio un goglione di rinforzo e non c'ho altro a spostare vero ma no alia c'ho ho livellato alia così di botto beh dai sono sulla buona strada per fare il cospero schifo legante alia è matta a livello 2 c'è minchia più danni per me è onesto fare più danni si vabbè tu sei proprio stronzo vabbè ma tu sei infame corella è crepata ma la seconda volta che muo è questa ma è la seconda volta autosviluppo post vediamo bello vado bellissimo bellissimo è bellissimo puoi attaccare peccato ecco questi buoni devo far spostare questo è morto questo è morto questo è morto strumenti usati in un genito curati sei morto lì ah lol ma questo è il tutorial da 2 euro minchia che dolore wander ma dove va ma tu non ti conto wander lol ma quanti danni sei piglia e poi hanno troppi danni non avanzano tutti ma c'è proprio il fine di mondo anzi c'è una bella cosa se attacca questo boom e l'ho brecciato via proprio via non hai più il diritto della parola c'è ovviamente si attacca boom e ti e ti cazzo mene trombatelo usiamo a me che trovate in buro forte distruggilo dove dalla vostra percezione mi faranno fare il danno pazzesco che a me piace pure mancato ma dopo sono proprio scala di questi sono proprio scarsi la gente è proprio scarsa manca beh il morto va bene ma tende morte c'ho peccato che duri troppo avevano rubato tutto il minimo indispensabile minucci stu strunt ma ha fatto danno chai 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 mo la tombiamo breccia l'arma è caduta engage ma chai ma cazzo boom ma che dolori fagli il dolore che merita Bello Eeeh Così sei svegliato la mattina La mattina sei svegliato E devo fare il triplo E tutto è lungo Così sei svegliato la mattina Hai tutti scopo Ho vinto Ma do Wander l'ho dato La loda Wander Signor La loda Wander Abbiamo dato la loda Wander Avrei qualche paura Concedetemi la paura Eh? Sì già Ma non ho capito che è successo Ma come? Do I detect a hint of fear? Of course I do Eh? Ma sto capendo che è successo? Sotto te l'hai trasportato lì di botto Time to die Time to die Ma Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh No Oh Ah evviva Sì ma gli altri dove cazzo stanno No Perché ti dobbiamo Perché ti dobbiamo Le dite la ringe O per me Sì ma gli altri dove cazzo stanno L'hai trasportato lì di botto E' una volta Non! Non, perché non così? Non! Perché? No! Questo è morto per colpa mia! Questo è morto per colpa mia! No! Ma perché? La sua amata bambina! No! 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 Che! Deborah! Romania! anoscianna! No! authorized for us! Come sempre! No! Come sempre? Vengono con voi! Non voglio più famiglie di essere tornati! Più più persone che sbagliate! E' tutto triste! E' tutto piangere! E' tutto piangere! E' tutto a piangere! E' tutto a piangere! E' tutto a piangere oggi! Io prendo che Firenay ha uno, corretto? Certo! Quindi devo andare lì per ottenere la domanda mia madre! La domanda mia ha chiesto di sbagliare tutte le ringe e portare la pazza a Elios! Come il Dragone Divino! E' ufficiale accetto la domanda di Firenay per aiuto! E' bello di ascoltare! Grazie per trovare uno! E' felice di aiutare, Prince Alfred! Ma quale è la differenza a Liar e Alfred? Sono due umani dal cazzo! Cioè, qual'è la loro differenza? Con più ti rispetto! Sono molto, molto vecchio amico! E' apprezzato questo! In realtà, non mi ricordo nulla da prima che ho dormito! Niente? Questo mondo è nuovo per me! E' apprezzato avere amici che potrebbero insegnarmi di amico e 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 di amico! Grazie a tutti, Alfred! Che è la ship nuova? Che è la nuova ship? Oh noooo! Oh noooo! Che brutto! fai parlay confrime il tipo ingiusta per già una con gli sbagliare la faccia intero fila nella pangera alfred sarà la tua spada di tuo scuro d'acqua divino spazio di scuro pokémon non capito più che altro non so ok di appunto è buono ok si ok allora è buono ah buono possiamo andare così salvo che sono le undici ci salutiamo siamo tutti felici ma è morta quindi io vive potete dare il dago divino quello è madonna la bicon dragon è già un drago è già un drago circa madonna felice più o meno più o meno troppo di è una frase fatta buono buono non ho capito come spazio questo posto era è piuttosto quieto, lo so ma si riuscirà quando otteniamo allie il posto è un posto morto cioè questo è un posto morto siamo felicissimi è quello che ha fatto cadere la p***a che ha ucciso nostra madre l'ha fatto cadere con la troia no, 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 no tieni, tieni, tieni perfetto posso salvare l'uck l'estaggio l'estaggi l'estaggi